Prende via la campagna informativa ECU RENITE con un complesso di attività che prevede visite gratuite da parte degli allergologi, opuscoli nelle farmacie, negli studi medici e nei centri di allergologia e informazioni online. L'iniziativa prevede inoltre la possibilità di consultare da parte di pazienti e della popolazione generale di un sito sul web che è intitolato www.nasolibero.it. In questo sito ci saranno tutte le informazioni importanti per i pazienti, non solo relativamente sintomi di agnosi e terapia, ma anche ai centri allergologici a cui possono fare riferimento per le loro problematiche. Informazioni necessarie, dato che una recente ricerca rileva come la rinite allergica sia spesso banalizzata alla stregua di un normale raffreddore stagionare, mentre può avere conseguenze importanti. Direi che il primo rischio di un'anite allergica non trattata è che il paziente dorme male. E se il paziente dorme male, evidentemente cosa succede? Che durante il giorno non è assolutamente pronto e se è uno studente naturalmente rende meno, se è un lavoratore invece rende molto meno sul lavoro. Questo dato è molto importante perché altera pesantemente la qualità della vita e qualche volta non è assolutamente percepito, considerato quasi come qualcosa di normale. Possiamo anche identificare per esempio delle complicanze nel bambino e tra queste l'otite per esempio che può portare alla perforazione del timpano e quindi a delle complicanze e delle sequele a lungo termine. Nell'adulto, nel bambino stesso, andando avanti negli anni, nell'adolescente per esempio, lo sviluppo di asma che è una patologia molto più complessa che incide proprio sullo sviluppo dell'apparato respiratorio e sulla capacità respiratoria. Per le terapie è meglio evitare il fai da te, dato che oggi esistono fondamentali novità terapeutiche per il trattamento della rinite allergica. Diciamo che oggi abbiamo a disposizione anche per quanto riguarda la sola rinite delle combinazioni e una delle combinazioni fondamentali è quella costituita dalla zelastina e fruticasone che per via topica nasale ha dimostrato una particolare efficacia tale da farlo definire farmaco di scelta per quanto riguarda questo tipo di patologia. Grazie a tutti!